Tutta l'Italia si è indignata. Quando loro prendevano la medaglia, se la toglievano. Ma in realtà ho scoperto che è una cosa che fanno tutti. Sì, sì. Lo fanno tutti. È vero. Perché? È così. Perché rosichi. Perché rosichi. Però cazzo, è arrivato secondo. Eh, è il primo dei perdenti. Meglio terzo che secondo, per certi versi. No, meglio secondo. È meglio... No, 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 io non ci voglio arrivare secondo. Meglio terzo, come hai detto tu. Eh, sì. Perché almeno ti dici, sono arrivato lì, potevo fare qualcosa in più. Invece non ci sei arrivato, quindi non ci pensi neanche. Io da secondo rosico più che da terzo.